Da un filetto di maialino ricaviamo dei bei medaglioni, li adagiamo su un piatto, li condiamo con sale, poco pepe, li spolveriamo con un po' di farina. Li cuociamo in una padella antiaderente, per qualche minuto, da entrambi i lati, fino ad ottenere una bella doratura. Sfumiamo con il vino bianco passito, lasciamo ridurre. E al sugo di cottura aggiungiamo una bella fetta di gorgonzola piccante. Lasciamo fondere e completiamo la salsa con un bicchierino di panna fresca. Su un piatto di portata posizioniamo i medaglioni e, in questo caso, anche delle punte di asparagi passate al burro, per un bel effetto cromatico. Mettiamo a punto la densità della salsa e ne appiamo i filetti. Completiamo il piatto con la marmellata di cipolle rosse. Ecco il piatto finito, medaglione di maialino in salsa gorgonzola piccante e marmellata di cipolle rosse. Attivatecusate ippa Alla i Una Yes Grazie a tutti.